Il fine che Scarsen sta perseguendo è quello di fare dell'IBBC l'unico broker delle armi leggere cinesi vendute nel terzo mondo. E i missili sono la transazione di entrata. Sì, ma miliardi di dollari investiti solo per fare il broker. Non ci può essere tanto guadagno per lui. Figuriamoci se mirano a guadagnare dalla vendita di armi. Mirano al controllo. Controllo del flusso di armi? Controllo del conflitto? No. No, no. L'IBBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto. È il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto.